Se si fosse scoperto sarebbe venuto tutto a galla, l'hanno costretta ad abortire. Ne riportò un trauma. E' un'altra ragazza per la centrispia del tempo. In questo film, si può fare anche un porno. Quindi è accettato di fare via un patto. Se tutte le scene d'azione, le fai fare a me. Perché io vedevo il cinema solo inteso come fare le cadute. Venendo anche dalla fotografia, è stato direttore della fotografia, riusciva a fare delle cose eccezionali in poco tempo e ben fatte. One filmmaker who succeeded in shaping the giallo to his own ends was Massimo Dallamano. No! 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 No!